Un pasticcio difensivo ed un contropiede fulminio finalizzato da Tacchi consentono alla Villa 2015 di passare all'antistadio Valleanzuca sulla Virtus Cupello per due reti a uno. Riappongendo i nastri consueto 4-2-3-1 per i padroni di casa con Dincecco, Piccozzi e Rossi alle spalle di Tacchi. Risponde il Cupello con un 3-5-2 Margagliotti e Troiano davanti. Il numero 10 in maglia rosso-blu è subito pericoloso in tre occasioni. Prima al terzo con un doppio tentativo. Prima in girata, poi con un destro a tu per tu con Gian Giacomo senza impensierirlo. Poi al ventottesimo quando viene elegantemente liberato dal tacco di Napolitano ma non trova la porta. Alla prima vera occasione per il Villa, pasticcio della retroguardia del Cupello, Sinato si scontra con Berardi. I due vanno a terra con Rossi che trova palla e porta sguarnita. Tutto facile e gol del 1-0. Il Cupello reagisce con Conti che trova il pallone in aria ma non riesce ad impensierire Giacomo in girata. Poi incursione di Piccozzi, tiro dal limite con Sinato che la fa sua in due tempi. Con le immagini di Mario Giacchetta la ripresa inizia con una pronta occasione per i locali con un tiro smorzato che non trova la porta. Gli ospiti di Mister Carlucci prendono campo ma di occasioni pericolose non se ne vedono. Alla tredicesimo colpo di testa di Itafili dagli sviluppi di un corner al lato. Alla ventesimo la punizione di Margagliotti si infrange sulla barriera mentre due minuti più tardi potreste dei rosso-blu per un presunto tocco di mano in area locale. Per l'ottimo Carlini della sezione di Lanciano si può proseguire. Il Villa in contropiede cerca il 2-0 e proprio da azione di rimessa al 34esimo. Miani scappa sulla destra, mette al centro per Tacchi che stoppa e di destro Fredda Sinato per il 2-0. Qualche istante dopo tentativo di Mancino di Di Giovanni che non trova i giri giusti. Il Cupello sembra rendersi ma in uno degli unici affondi va stesi cross dalla destra per il colpo di testa sul secondo palo di Troiano che batte Gian Giacomo e riapre la contesa. Il rosso-blu adesso ci credono al quinto ed ultimo minuto di recupero occasionissima sulla testa di Felice che per pochi centimetri non trova la porta. Termina dunque così tre punti d'oro in casa Villa per rincorrere gli spareggi di salvezza. KO amarissimo per il Cupello. Villa 2015, Virtus Cupello 2-1. Mister Vitale, paradossalmente commentavamo settimane fa partite dove dominavate, comunque avevate più possesso palla però non portavate il risultato a casa. Oggi comunque avete difeso bene la predominanza territoriale perché di occasioni non ne avete tante. È stato il Cupello però i tre punti li avete portati a casa voi. Sì, abbiamo preparato la partita così, sapendo le caratteristiche del Cupello. Ci è andata bene, finalmente siamo tornati alla vittoria perché da tanto tempo che non giocavamo, quindi abbiamo approfittato anche per gestire meglio i momenti. Oggi, devo dire la verità, i ragazzi hanno dimostrato un grande spirito di sacrificio e hanno messo in campo tutto quello che abbiamo provato in questo mese, anche se con difficoltà perché non ci siamo mai allenati al completo. Mister, una partita giocata per 90 minuti, possiamo dirlo alla pari, avete avuto predominanza territoriale, sicuramente gli episodi non vi hanno premiati, peccato poi per il gol al quinto minuto di recupero sfumato per pochissimi centimetri perché potremmo parlare davvero di un'altra partita. No vabbè, ma se analizziamo la partita abbiamo fatto tutto noi, abbiamo commesso un'ingenuità sul primo gol che si sono scontrati il portiere e il nostro compagno, quindi da lì la partita è diventata difficile, ma io lo sapevo che la partita era così, abbiamo provato una reazione ma siamo poco incisivi in avanti e quindi fai fatica quando non riesci a segnare. Loro hanno lottato su tutti i palloni, non mi è piaciuto il nostro atteggiamento e dobbiamo sicuramente rivedere qualcosa perché sennò faremo veramente fatica ad andare avanti e a conquistare la salvezza. Mister, sicuramente questo stop ha influito anche sui ritmi, l'abbiamo visto, comunque tutto nell'arco della partita non c'è stato un ritmo molto alto da entrambe le squadre, sicuramente come dicevo questa pausa ha influito e non poco. Sì ma vale per noi e vale pure per la squadra avversaria, loro avevano più voglia, arrivavano su tutte le seconde palle e questo non va bene perché pensavamo di venire qua a fare una passeggiata ma io lo sapevo che non era così, i ragazzi lo sapevano e alla fine sai prendi gol, ti innervosisci e fai fatica, non lo fai e prendi anche il secondo, anche se poi alla fine potevamo pareggiare, però comunque loro hanno meritato perché ci hanno messo più voglia e più cattiveria. Grazie. 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 Grazie.